bella a tutti ragazzi bentornati nel mio canale oggi visto che siete stati intattissimi a chiedermelo sotto al video dell'ultima volta vi insegnerò come riuscire a shoppare il negozio settimanale di fortnite ben due volte raga fate bene attenzione perché questo glitch è utilizzabile solamente alla fine di ogni season quindi non ogni settimana come molti hanno pensato magari ci sarebbe sarà ogni settimana no purtroppo solo alla fine di ogni season dunque prima di cominciare col video vero e proprio farei uno spacchettamento aprirei sto lama sto lama troll leggendario raga vediamo cosa ci esce di buono insieme incrociamo le dita vediamo che diventa argento e per forza oro sono sempre ori i lama tesori troll leggendari un po di roba azzurra lo farei andare piano ok rame pistola avvoltoio non mi interessa per niente supersite quello mi interessa che abbia la personalità ok progetto fucile pesante leggendario fucile di precisione leggendario andrei più sul fucile pesante sì sì mi fa scegliere un'altra volta canna fumante rame spezza schiena allora le ho già tutti e due ma fa niente tutto sommato era un lama allora amici miei questa è una clip che ho preso dal video dell'altra volta ovviamente dove vi mostro che compro frostbite per la prima volta successivamente vi mostrerò appunto che lo comprerò una seconda volta vi anticipo già di guardare i miei v bucks adesso di guardare quanti amici online di guardare la chat in basso a sinistra in modo che voi possiate capire che non è la stessa clip che appunto lo sto comprando effettivamente due volte uno il giorno prima la mattina e subito dopo l'aggiornamento diciamo adesso andremo a comprare il terzo frostbite perché ovviamente uno ce l'avevo prima uno lo abbiamo appena comprato e l'altro lo compriremo subito ora insieme per avere la prova che questo è una clip differente potete anche benissimo guardare i miei v bucks i miei amici la chat in basso a sinistra l'oro insomma ci sono un po di cose che potete guardare a dimostrazione del fatto che questa è una clip differente sempre girata con il mio stesso account quindi guardate raga come ben potete vedere posso comprarmi un altro frostbite e non solo un altro frostbite perché ricordiamo che possiamo anche comprare altri stravantaggi possiamo comparare altri flussi leggendari insomma possiamo comprare tutto quello che c'era nel negozio un'altra volta io spero di essere stato abbastanza chiaro allora 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 raga ecco qua il mio primo frostbite come potete vedere al 130 full perk questo ormai ce l'ho dall'anno scorso quindi non lo contiamo se scendiamo in basso potete benissimo vedere insieme a me non taglierò la clip per questioni ovviamente di come si dice di verità come potete vedere abbiamo due frostbite raga come è possibile ricapitolando tutto da capo semplicemente quando loro faranno l'aggiornamento alla season 8 faccio un esempio voi avrete un lasso di tempo ovvero sappiamo che il bottino lo aggiornano alla luna di notte voi avete un lasso di tempo che va dalla luna di notte fino all'orario che loro decidono di fare l'aggiornamento che di solito va alle 10 di mattina quindi abbiamo questo lasso di tempo per shoppare tutto quello che possiamo nel negozio dopodiché dopo l'aggiornamento quindi dopo quelle due ore che scaricheremo la patch nuova avremo la possibilità di comprare tutto il negozio per intero nuovamente quindi duplicare tutte le cose che ci sono e comprarcele nuovamente raga è fantastico ho pensato di condividerlo con voi spero che questa idea vi sia piaciuta appunto concludo questo video ragazzi di chiedendo facendovi una domanda vi piacerebbe sul mio canale trovare alla domenica premettendo che io la domenica non vorrei caricare clip di salva al mondo mi piacerebbe caricare una clip di battaglia reale che ne so magari o la partita che mi è uscita meglio durante la settimana o un montaggio dipende un po dalle settimane settimane perciò lo chiedo a voi vi farebbe piacere trovare sul canale una clip alla domenica riguardo battaglia reale fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti io per oggi vi saluto ci vediamo come sempre o domani ovviamente o lunedì con una nuovissima clip e un nuovissimo contest bella raga ciao